al nostro mondo manca qualcosa gli straordinari animali cancellati dal tempo e se potessimo farli ritornare in vita e se l'estinzione non fosse un processo irreversibile stiamo per partire per un safari davvero speciale lo zoologo Nigel Marvin farà un viaggio indietro nel tempo e cercherà di salvare creature sull'orlo dell'estinzione il suo piano consiste nel portare alcuni animali al sicuro nella nostra epoca per dare loro una seconda possibilità questa volta Nigel tornerà a 75 milioni di anni fa nel Texas preistorico vuole trovare uno dei maggiori predatori mai esistiti un coccodrillo talmente grande da cacciare i dinosauri benvenuti nella riserva naturale unica al mondo benvenuti al prehistoric park grazie a tutti